Torniamo a revisionare qualche scatto e i tre che vedremo oggi sono il primo di Elisa, il secondo di Loredana e il terzo di Jacopo. Ho già revisionato alcuni dei loro scatti ma me ne hanno mandati altri e quindi ho deciso di revisionarne qualcun altro. Se anche tu vuoi mandarmi le tue fotografie da revisionare qui sul canale, scrivimi nei commenti oppure contattami su Instagram a nicolas.tonnelli oppure scrivimi una mia email e la mia email la trovi qui nella descrizione del canale. Saltiamo a monitor e vediamo cosa si può migliorare e cosa è stato fatto bene in questi scatti. E questi sono i tre scatti che revisioneremo oggi. Il primo è di Elisa, il secondo di Loredana e il terzo di Jacopo. Iniziamo subito da Elisa e vediamo cosa è stato fatto bene e cosa invece andava migliorato. Dal punto di vista compositivo la composizione è abbastanza interessante. Abbiamo questa bella linea guida che ci guida fino a quello che è ipoteticamente il soggetto che è questa sorta di gazebo sospeso sull'acqua a mo' di palafitta e abbiamo il solo in camera. Quindi come composizione va abbastanza bene. Dal punto di vista però della post produzione, cioè dell'editing finale della foto, a mio parere c'è un errore gigantesco che è proprio questo alone bianco che si vede chiaramente qui. Io non so se la foto è stata fatta in HDR o se è stata post prodotta in fase successiva, però si vede chiarissimamente quella parte qui estremamente troppo bianca. Probabilmente appunto essendo il soggetto Elisa voleva aumentare la luminosità di questa parte qui che era chiaramente scura perché essendo contro luce molto probabilmente era molto molto scura e credo che abbia applicato una sorta di filtro radiale in questa zona per aumentare l'esposizione. L'idea va bene ma la realizzazione no perché appunto abbiamo questa parte troppo troppo bianca e si vede proprio che è finto e si vede proprio anche qui lo stacco di questa zona scura che abbiamo perché qui è chiaramente più scuro e questa zona chiara in questa direzione che è molto molto forte. Per quanto riguarda il sole in camera, essendo un'alta luce magari potevi stringere un po' di più il diaframma perché vedo il sole che è abbastanza esagonale e non abbiamo i classici spike, diciamo i classici raggi dati da un diaframma molto chiuso. Qui magari andare a scattare con un f16 poteva regalarci un po' più di interesse sulla zona dell'alta luce cioè del sole. Poi sempre dal punto di vista di post produzione si poteva fare meglio sui colori perché questa zona qui mi risulta un po' troppo tendente al verde però sappiamo bene che nel cielo il verde non esiste quindi o è azzurro o è rosso tendente all'arancione, al giallo, insomma a quelle due tonalità. Qui secondo me in post produzione è stato fatto qualcosa con i colori e quella parte qui sì si vede che tendeva al giallo e all'azzurro ma così a occhio mi sembra leggermente tendente al verde. Quindi ripeto secondo me dal punto di vista della post produzione è stato sbagliato qualcosa. Un consiglio che non è né un pro né un contro diciamo di questo scatto è fai attenzione Elisa la prossima volta con le linee all'interno dell'immagine perché qui vediamo abbiamo questa staccionata, questo corrimano in legno qui e quasi subito attaccato abbiamo diciamo quello che poteva essere un secondo soggetto non c'è abbastanza spazio tra i due non riesco a vedere che in mezzo c'è l'acqua quindi qui sarebbe stato più opportuno alzare leggermente la fotocamera ma bastava veramente di poco e inclinarla leggermente verso il basso per lasciare più spazio di acqua qui e darci un po' più senso di profondità perché facendo così questo piano diciamo che va un po' tutto a schiacciarsi tutto sulla stessa linea quindi per dare più profondità all'immagine sarebbe stato meglio lasciare un po' più di spazio qui. Un'altra cosa che è un consiglio proprio che anche questo non è né un pro né un contro poteva starci siccome il cielo è poco interessante perché non ci sono nuvole non ci sono neanche dei bei colori si poteva provare a fare un crop leggermente diverso magari tagliarlo qui e magari giocare di più sul dare il senso di panoramico comunque di landscape quindi andare a croppare leggermente la parte più alta e dare un po' appunto più l'effetto di orizzontalità non so se si usa come termine prova bene per il resto ripeto va abbastanza bene questa linea chiaramente è cercata e va benissimo il soggetto poteva starci stai attenta in post produzione con questi brutti alloni bianchi e con queste macchie di colore un po' più chiaro un po' più scuro probabilmente fatte con dei filtri e attenzione anche quando andiamo a regolare il colore riguardiamo più volte lo scatto per capire se magari abbiamo un po' troppo verde abbiamo un po' poco azzurro giocando un po' in edi meglio in post produzione potevamo alzare un po' di più quell'azzurro qui tendere un po' più verso il giallo verso l'arancione questa zona qui che è proprio verde e ottenere tutto sommato uno scatto nettamente migliore se proprio vogliamo guardare il pelo nell'uovo ma questo è proprio un piccolo appunto qui non sta benissimo queste cose che ci sono in acqua con un timbro clone ci si metteva veramente pochissimi minuti a togliere totalmente e lasciare un riflesso proprio pulito pulito e limpido senza esagerare naturalmente però qua ci sono tante macchioline che con un timbro clone potevano essere tolte tutto sommato va bene migliora un po' sulla post produzione e presta attenzione alle distanze tra gli oggetti per dare più profondità all'immagine saltiamo allo scatto di Loredana me l'ha mandato per email però la foto si chiamava screenshot quindi probabilmente è stato fatto uno screenshot a un'immagine che aveva già sul telefono e devo dire che la qualità è veramente molto bassa se zoomiamo qui è proprio totalmente pixelato difatti non giudicherò la qualità dell'immagine perché guardandola così mi sembra anche leggermente fuori fuoco cioè parecchio fuori fuoco a dire la verità non leggermente ma probabilmente dato dal fatto che è uno screenshot quindi ragazzi quando mi mandate le foto cercate di mandarmela alla massima qualità appunto per riuscire anche voi a ottenere il massimo dai consigli che riesco a darvi allora guardiamo un po' la composizione di questo scatto la composizione è abbastanza interessante avevamo una buona simmetria che si vede chiaramente qui e anche qui naturalmente sulla casa e diciamo che tutto sommato si sono usati bene gli spazi vuoti e gli spazi pieni secondo me si poteva distanziare un po' di più la casa dal bordo magari farla iniziare qui e lasciare un po' più di spazio in questa parte così la casa è molto 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 vicino al bordo qui si diventa tutto un po' tutto insieme diciamo che il nostro soggetto anche se è una casa respira un po' poco all'interno dell'immagine quindi potevamo spostare leggermente verso destra e il casolare ci arrivava più o meno qui così all'incirca e avremmo avuto più spazio dal bordo del frame inoltre sempre in questa parte qua ci sono delle nuvole molto molto belle e interessanti quindi lasciare un po' più di spazio in questa direzione sarebbe stato meglio perché inserivamo ancora di più questa parte che è interessante perché queste nuvole sono molto belle apprezzo proprio le nuvole perché in questo caso seppur non si parla né di alba né di tramonto ma probabilmente al centro della giornata le nuvole sono molto molto interessanti quindi come composizione come crop dell'immagine ci siamo qui abbiamo forse una zona un po' troppo bianca non so se è stata fatta in post produzione o no secondo me questa foto è stata post prodotta perché dai colori poi lo vediamo questa parte qui forse è un pelo un po' troppo bianca si poteva leggermente abbassare l'esposizione di quella zona lì e risultava qualcosina meglio per quanto riguarda la post produzione appunto i colori sono belli quindi hai fatto una buona post produzione naturalmente cioè si capisce che non sono reali tipo questo azzurro qui si capisce che non è reale però nell'immagine in sé così ci sta poi stiamo facendo fotografie è comunque un'arte quindi dare anche una propria interpretazione all'immagine ci sta ripeto i colori sono belli mi piace questo rossiccio tendente al marrone il verde è molto bello il blu l'azzurro è carino ci sta una cosa che secondo me avresti potuto fare è eliminare questi due uccelli che non si vede neanche che sono due uccelli sono solo due punti neri nell'immagine in uno spazio totalmente vuoto secondo me se andavamo a toglierli era meglio per lasciare proprio libero libero da qualsiasi cosa quella parte qua inoltre anche qui probabilmente c'è una barca una nave e si poteva togliere anche quella proprio per dare questo forte contrasto del nulla da una parte e diciamo un po' più di peso visivo dall'altra ci poteva stare tutto sommato in buono scatto ti ripeto l'oredana se mi mandi una foto cerca di mandarmela al massimo dalla qualità con cui l'ha scattata così da poter anche poter ottenere il massimo quindi qua non posso dirti l'immagine è fuori fuoco non è fuori fuoco metti a fuoco qui piuttosto che metti a fuoco qui perché guardandola così mi risulta tutta fuori fuoco ma solo perché è uno screenshot ed è molto pixelata passiamo all'ultimo scatto questo è di Jacopo e tutto sommato l'immagine si lascia guardare è abbastanza carina interessante ci sono dei bei mulini che non si vedono neanche tanto al giorno d'oggi quindi catturano l'occhio però c'è sempre qualcosa da dire allora come prima cosa questo scatto io non l'avrei fatto in verticale ma l'avrei fatto in orizzontale perché ti spiego perché perché la barca sta andando in questa direzione però il frame finisce subito sarebbe stato meglio avere più spazio in questa direzione di qua per dare più senso di movimento di questa barca qui si lascia diciamo si lascia credere all'osservatore che qua ci sia dell'altra acqua ma non lo vede cioè magari quella barca qui adesso fa così attracca lì perché lì non so c'è un porticciolo quindi per dare più informazione a chi guarda l'immagine un bello orientamento orizzontale di questa foto avrebbe dato ancora più senso di movimento a questa barca poi magari boh c'era qualche punticello poteva essere carino quindi secondo me questo scatto in orizzontale avrebbe reso meglio inoltre qui hai tagliato queste nuvole qui che potevano essere interessanti quindi o fai una una composizione per esaltare queste nuvole qui che viste così sembrano carine oppure le tagli totalmente e lasci qualcosa del genere andando appunto a cercare una composizione orizzontale perché anche questa nuvola qui è carina quindi con una composizione orizzontale saremo riusciti a vedere anche magari la fine di questa nuvola e tutto sommato avremo aggiunto elementi interessanti all'interno dell'immagine vedo che è scattata in un orario diciamo quasi verso il tramonto perché la luce non è a picco ma viene più o meno da questa direzione difatti ho questa ombra qui e ci sta quello che forse potevi provare a fare con questo scatto è di provare un bianco e nero perché in questa immagine già vista così è tutto un po' desaturo i colori non ci regalano nulla non ci danno qualcosa di più non è un valore aggiunto il colore in questa immagine perché il verde è abbastanza desaturo l'acqua non è non è azzurra non ha un bel colore proprio tendente al grigio il mulino è tendenzialmente bianco leggermente marroncino il tetto è pressoché nero marrone o nero e abbiamo proprio poco colore cioè appunto il verde è molto desaturo quindi uno scatto così si poteva fare in bianco e nero e impegnarsi di più dal punto di vista compositivo inoltre le persone sulla barca non hanno sto granché di particolarmente interessante magari un pescatore poteva avere un cappello particolare un vestito particolare questi sembrano proprio turisti per di più uno alla polo uno alla maglia con i fiori diciamo che ci toglie quello che è il senso di natura e di qualcosa anche di abbastanza antico e arcaico dato dai mulini a vento quindi questa parte qui diciamo che scontra un po' il vecchio tra virgolette con il moderno magari tendendola un po' più in bianco e nero si andavano a perdere i dettagli di questa maglia fiorita che è proprio secondo me stona tanto si avremmo dato un po' più senso di vintage e andavamo a immergere meglio i mulini a vento nella nostra immagine dal punto di vista di post produzione credo che se tu l'hai fatta hai solo abbassato leggermente la saturazione di tutti i colori ti ripeto Jacopo visto che hai fatto degli altri scatti abbastanza buoni questo poteva venirti meglio se ce l'hai ancora prova a dare un tentativo fai un tentativo mettilo in bianco e nero magari croppa un po' questa immagine qui e cerca di giocare di più sull'effetto vintage piuttosto che sull'effetto di impatto dell'immagine che qui non abbiamo poi l'acqua appunto non è neanche interessante perché è molto mossa quindi si prova a dare questo effetto vintage però comunque gli altri scatti che mi hai mandato sono abbastanza interessanti ho preso questo proprio per poterti dare un po' più di consigli questi erano i tre scatti che ho revisionato io oggi per voi qui sul canale se hai trovato qualcosa di utile e hai appreso qualche nuova tecnica o comunque hai cambiato leggermente il punto di vista imparando da questi scatti fammelo sapere con un like e se apprezzi il mondo della fotografia iscriviti subito al canale se anche tu vuoi mandarmi qualche tua fotografia da revisionare scrivimi qua in descrizione del canale oppure contattami su instagram a nicolas.tennelli oppure cerca la mia email qua nelle informazioni del canale per oggi è tutto ragazzi noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao